Musica Due, tre, tre Vai! Io ho dei palloncini In particolare questi palloncini sono pieni di semi Quindi quando scoppieranno, scenderanno, i semi cadranno sulla città Come auspicio di generazione di altre cose Taglio del nastro davvero suggestivo per l'inaugurazione della terza piazza Lo spazio antistante il punto vendita COP di Piazza Leopoldo a Firenze E seguendo idealmente il volo dei palloncini Ci troviamo a dominare dall'alto l'aria riqualificata Ecco, come nasce l'idea di questa terza piazza? Nasce dall'osservazione di un vuoto e di un pieno Un vuoto era un ambiente pubblico un po' lasciato a se stesso Il pieno era una presenza, che abbiamo osservato, dei parkour Firenze Che animava la piazza Una presenza viva, educante, come abbiamo detto noi Perché con tanti bambini arruolati al suo seguito Che, come dire, garantiva una certa sopravvivenza di questo luogo Quindi questo è il punto di partenza Per poi arrivare a un progetto ampio Che ha coinvolto più realtà Con un risultato sorprendente Sì, esattamente È andata proprio così Prima i soggetti coinvolti Poi il progetto partecipato Poi la realizzazione partecipata Ci auguriamo in seguito anche la partecipazione alla piazza Ecco, guardando dall'altro Si può identificare alcuni spazi che sono sintomatici E caratterizzano il posto Sì, noi abbiamo deciso di dare un'anima a quell'arcipelago di Aiuole Che era questa piazza Consentendo anche l'accesso alle stesse Che prima erano dei terreni sopraelevate Diciamo così Abbiamo voluto dare una centralità alla piazza Infatti c'è una zona sopraelevata a coltivazione arbustiva Ma poi in realtà Ognuna di queste isole È diventata un luogo di aggregazione Curato e portato avanti da un soggetto diverso Abbiamo il campetto di calcio a tre E la bocciofila curata dal collettivo di architettura di Abuso L'orto dei ragazzi di Coltiviamo la Vita Gemellato con la fattoria di rieducazione dei bambini alcolisti di Napenda Cuisci In Kenya Le due spirali di aromatiche che vengono curate dal gruppo di autoaiuto familiare Della ASLE 11 Sono dei pazienti psichiatrici in percorso lungo di autonomia E altri soggetti come per esempio i parkour Che non hanno una zona vera e propria della piazza dedicata Ma che si occupano di animare tutto il contesto Ma oggi è anche l'occasione per inaugurare il Mille Luci Caffè Il bar inserito all'interno della terza piazza E interamente gestito dai ragazzi di Trisomia 21 Sì, è stato fortemente voluto Grazie appunto a questo progetto e a Unicop Per noi è veramente un orgoglio e una grande soddisfazione Perché il lavoro è importante per tutti E ha maggior ragione per chi ha ulteriori difficoltà E quindi hanno partecipato anche alla scelta dell'arredamento I quadri sono stati realizzati da loro Abbiamo fatto veramente un lavoro, una costruzione di questo ambiente con loro Con l'attenzione anche ad utilizzare prodotti a chilometro zero Prodotti di libera terra, birra artigianale, vino biologico Quindi cercheremo di dare oltre ai nostri sorrisi e all'accoglienza Anche un prodotto di qualità e con un buon rapporto con il prezzo E quindi speriamo veramente di poter poi andare avanti Anche con iniziative per i giovani E quindi deve essere un bar allegro E i clienti devono venire qui per il piacere di venire qui E non per pietismo E quindi noi siamo lavoratori a tutti gli effetti E noi incontriamo la Presidente della sezione Soci In quello che è l'orto, un vero e proprio orto all'interno di questa terza piazza Un bellissimo spazio all'interno di una bellissima piazza Credo che la sezione Soci possa essere solamente soddisfatta di questa operazione Certamente, sì, siamo contenti perché insomma questo è un progetto che è partito nel 2013 Abbiamo lavorato in questo periodo soprattutto per la progettazione Ma la parte più importante è stata la condivisione di questo progetto Cioè chiamare i cittadini, chiamare le persone, le associazioni Affinché queste persone potessero condividere con noi la progettazione E poi collaborare per la realizzazione Abbiamo condiviso il progetto Abbiamo condiviso le aspettative Chiamavamo le regole Anche che in una piazza come questa ci dovevamo dare E poi siamo partiti con il lavoro All'inizio della nostra trasmissione abbiamo sentito parlare di parkour Adesso lo vediamo Ma di fatto cos'è il parkour? Il parkour è una disciplina o un metodo d'allenamento Che permette all'individuo di sviluppare la capacità Di spostarsi in uno spazio in un modo creativo, fluido, efficace In base alle sue inclinazioni Fondamentalmente si può definire così, diciamo Quindi si sposa in modo giusto in uno spazio come questo? Sì, assolutamente sì Il parkour nasce, cresce e si sviluppa in uno spazio urbano Poi può essere anche portato in altri contesti Ma il suo contesto principe è quello urbano E uno spazio come questo per noi è molto adatto Perché utilizziamo questo spazio più o meno quotidianamente Sia con i corsi che nel nostro allenamento personale Quel che facciamo è venire in questo posto, allenarci, sfruttarlo per quello che ci serve Quindi la nostra presenza è più o meno quotidiana E con le evoluzioni degli atleti del parkour Terminiamo la nostra trasmissione Ma in conclusione mi piace ricordare Una importante data Proprio qui nella terza piazza Si terrà il 6 giugno Una vera e propria festa di piazza Con animazione, giochi, maratona di lettura Merenda e tant'altro Davvero un evento importante Una data da cerchiare nel calendario Ciao a tutti